Caro bollette, covid e vendite online fanno precipitare il settore del commercio e abbassare definitivamente le saracinesche dei negozi. Secondo i dati diffusi dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara, nell'ambito dell'analisi statistica trimestrale delle imprese condotta da Infocamere, le attività economiche della provincia di Pescara cancellate in 5 anni sono state 254. In calo anche il dato delle nuove aperture dei negozi, che nello stesso arco temporale diminuiscono di 177 unità, delineando un quadro di sofferenza dell'economia in provincia di Pescara. Tra le cause di questa scarsa dinamicità delle attività imprenditoriali spiccano il caro bollette, le chiusure forzate dei negozi per il covid e l'incremento delle vendite online che battono la concorrenza del commercio al dettaglio. Marina Dolci, presidente di Confesarcenti Pescara, analizza al Tg8 la situazione. Sicuramente noi dal covid, tutte le attività commerciali, di vicinato soprattutto, hanno avuto una forte restrizione. Questo perché comunque all'inizio il distanziamento emetteva ansia. Poi si poteva tornare ad andare al ristorante, fare le feste. Abbiamo avuto un anno veramente florido, perché ci siamo tutti quanti invogliati a riprendere qualcosa di bello a comprare e andare fuori. Poi c'è stata la guerra. Abbiamo ospitato gli ucraini. È stato un momento veramente molto emozionante, anche di coesione con loro, che però ha creato anche lì un momento di destabilizzazione. Quindi tutti quanti si sono fermati di nuovo sugli acquisti. Vuoi cosa dire del caro bollette? Tantissime attività purtroppo hanno chiuso l'estate, che c'è stato l'aumento vorticoso della bolletta della luce e le attività che hanno, frigoriferi che rimangono sempre accese, hanno subito un rincaro altissimo e hanno dovuto chiudere. Arriviamo ad oggi. C'è ancora una guerra, anzi una nuova guerra. L'economia comunque è ancora molto instabile. Cosa dire dei mutui? Cosa dire dell'online? Ormai è un concorrente. La sua tassazione rimane sempre molto bassa in confronto a quella nostra nazionale. Il cliente si è abituato, soprattutto la clientela giovane. Internet, telefonino. Quindi dobbiamo recuperare questa fascia giovane. Ci sono intanto delle soluzioni possibili che come associazioni di categoria avete cercato di mettere in atto? Sicuramente anche fare rete con il turismo, perché devo dire che i turisti ci sono anche adesso, cioè non è solamente in estate. C'è speranza di recuperare qualcosa proprio dalle vendite delle estrenne natalizie? Sì, mi auguro proprio di sì e lo auguro a tutti i miei colleghi. 8 dicembre. Ieri finalmente l'aria di Natale si respira e abbiamo cominciato a fare i pacchettini regalo. Come confesercenti nazionali abbiamo avuto i dati di uno studio per Natale. La spesa pro capite è aumentata del 13%. Dicono a livello nazionale che la spesa sarà intorno ai 200 euro. Io penso per pescare intorno ai 100-110 euro. Dobbiamo assolutamente passare questo periodo brutto e poi ricordiamo il 5 di gennaio iniziano i saldi.